E pro me Extreme Bittico Challenge di squadra caccio un evento Maripoldo Ballpark Jurado nan tabatacla, premio nan tabatacla, caccio nan tabatapreparando E competencia a cumisa, obediencia, gusto di obstacolo e test di mordimento Un tras di otro, caccio e nan dolium tabatamos tranquico nan tabatinha den Algun mijoco otro, pero tu adunaran show E finalmente la parte mas interessante pa' Hopi e attacchi Un atal de exitoso de organizador ng Elite Canine Club di Quadrants Canine TV Ma' bian, a mita titula clay, noticia clara